Rimani aggiornato sulle notizie di gossip, cronaca, reality show, sport ed altro. Iscriviti al canale Notizie Flash. Lascia la casa per problemi di salute e si trasferisce dalla figlia in un'altra provincia, gliela occupano. La vicenda della professoressa in pensione, novantenne, vittima dei ladri di abitazione a Napoli, sembra riecheggiare quella di Ennio Di Lalla, l'86enne del quartiere Don Bosco a Roma che, uscito dall'appartamento per andare a fare degli accertamenti in ospedale, al ritorno l'aveva trovata occupata da una giovane Rom. All'anziana napoletana, stavolta, dopo aver cambiato la serratura, è stato portato via anche il mobilio. Nelle foto postate sui social dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli la denuncia, lo Stato intervenga con decisione.